Ah, ma tu vai avanti con i bonus. Eh, sono gli incentivi per rimettere in moto i consumi interni. Bene, è stato proprio grazie ai suggerimenti, alle iniziative, alla pressione del tutto legittima e democratica che è arrivata dalle realtà di categoria italiane, che abbiamo deciso di passare da 10.000 a 16.000. Il Parlamento, nella sua autonomia e nella sua libertà, come sacrosanto che sia e come doveroso che sia, di portare il plafondo a 16.000 euro. Perché? Per valorizzare la qualità italiana. Ed è un fatto, credo, positivo. Ma la sostanza più importante è che finalmente anche sui consumi stiamo ripartendo.